benvenuti o bentornati in un nuovo video in questo video vi voglio mostrare finalmente tutti gli acquisti tutti gli omaggi che ci hanno dato al cosmo allora look veramente molto molto easy ho puntato sulle labbra in cui ho messo questo rossetto di catrice che è il prisma lipstick numero 050 che è quello del nuovo riassortimento ho fatto la base ho fatto alla larga le sovraccia che ne ho fatte molto naturali non avevo i distraffare e ho fatto un make up veramente molto molto easy anche perché con Anthony che urla e strepita capite anche voi è possibile cambio di location poiché innanzitutto perché c'era Anthony di là che dormiva dormiva urlava e poi poi ci sono tutte le cose che mi devo far vedere prima la luce c'era giuro che c'era la luce prima quindi spero che le cose si vedano allora sono tante 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 cose io ho preso anche dei sacchettini delle scatole sefora per metterci le cose da dividere per poi metterle nella postazione trucco giustamente si è spetta pure la mia luce la mia piccola ring light si è spenta e ci ha mandato pure la ring light ma spero ci sia sufficiente luce c'è abbastanza luce ci può stare allora prima di incominciare voglio un po' parlarvi di cosa abbiamo fatto all'inizio così vi faccio vedere seguito seguito quello che è successo allora siamo stati all'inizio al Temporary Store di Mulac bellissimo Temporary Store fatto veramente bene sotto c'è tutta la zona in cui c'è il make up proprio tutto di Mulac il bello è che non c'è uno stand con rossetti ma ce ne sono diversi con tutti gli stessi prodotti in modo che se ce la calca da questa parte basta che ti sposti di fronte e riesci a vedere le stesse cose di fronte ed è ottimo perché c'era un bordello di gente e se c'erano pochi stand come fanno molti negozi nessuno avrebbe visto niente ma almeno tutti a giro sono riusciti a vedere tutto al piano di sopra c'era la skin map la mappatura per vedere che tipo di pelle hai, se hai problemi di pelle o cose del genere e in più ti provavano il nuovo fondo allora la novità di Mulac è un fonding stick devo dire che è strano dato che anche me è uscito con la stessa cosa siamo sulla scia dei fonding stick per chi non l'aveva capito Mulac però ci ha aggiunto un olio una boccetta d'olio una cipria in polvere libera e una spugnetta che è una beauty blender che è una nuvoletta cioè voi la toccate è come toccare una nuvoletta è una cosa fantastica quella spugnetta è una cosa bellissima allora fonding stick provato sulla pelle devo dire, allora io all'inizio i fonding stick sono sempre un po' dubbiosa su questi fonding stick perché risultano sempre pesanti, troppo difficili da stendere questo non lo è sia senza olio che con olio perché ci potete mettere goccine di olio o sulla blender o direttamente nello stick questo non è difficile da stendere si amalgama con la pelle si fonde veramente tanto con la pelle e non lo ho detto sul viso è una cosa stupenda e devo dire che la durata mi è piaciuta perché comunque anche se ci hanno fatto un pezzo di pelle l'ho mantenuto e monitorato tutto il giorno perfetto comunque ovviamente poi se dipende dal costo lo comprerò molto volentieri perché a primo impatto mi è piaciuto tanto anche con l'olio è stato veramente un ottimo prodotto piccola cosa che non mi è piaciuta è che vendono fondo olio blender cipria ok vendono tutto separato ma io credo che almeno l'olio e il fondo dovevano essere insieme più che altro perché l'olio accompagna il fondo cioè il fondo accompagna l'olio l'olio lo potete usare anche prima come preparatore per la pelle eccetera eccetera però comunque avrei preferito che fossero insieme però va bene non ci dilunghiamo con la scusa mi sono fatta provare perché loro ti truccavano ti provavano tutti i prodotti che volevate così se non sei commentata il tuo acquisto lo provi sul viso e poi puoi decidere di acquistarlo o no io mi sono fatta provare una palette che desideravo tanto allora desideravo tanto la di Fred 2 ma non l'ho comprata perché onestamente ci sono colori che mi ispirano come tutti i matt ma gli shimmer non mi ispirano tanto cioè non mi catturano tanto quindi credo che più avanti mi comprerò o solo alcuni matt oppure valuterò valuterò comunque con parsimonia ecco con parsimonia valuterò ho comprato una cosa sola dentro al sacchetto di Mulac c'era questo questi stickers con le labbra e il campione dell'olio per capelli di Mulac e un 10% di sconto in più oltre al 10% che ci sarà quindi chi acquistava alco chi acquista nello store Mulac avrà un 10% in più che potrà utilizzare insieme al 10% di lancio del prodotto quindi ottimo perché voglio vedere il prezzo lo vorrei proprio comprare perché mi è piaciuto allora io ho comprato lei la Get Rich Quick la palette di illuminanti me la sono fatta provare sul viso perché ero veramente tanto 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 curiosa di provarla mi ho sentito sempre parlare benissimo sapete che io tengo sempre tutti i pack il pack della palette è così il damascato di Mulac famosissimo con la pellicolina che ovviamente togliamo e questa è la palette c'è la pellicola con i nomi voi li sapete meglio di me i colori sono questi qui allora è veramente bellissima la potete usare da asciutta e bagnata ma hanno una pigmentazione che è spaziale bellissima è da non credere guardate qua c'è luce pura guardate la differenza c'è luce pura luce pura adesso ne mettiamo ancora un po' da questo lato giusto per equipaggiare anche l'altra parte pareggiare scusate che equipaggiare siamo al tempo delle bombe bellissima pigmentazione che mi è piaciuta tanto veramente bene potete decidere di o fare un effetto più naturale o un effetto più bam avete messo l'illuminante non si nota la potete usare anche sugli occhi perché la ragazza poi me ne ha preso un po' e me l'ha picchiettato sull'occhio cioè guardate guardate come ha aperto l'occhio in base a questo rispetto a questo bellissimo veramente fantastica è una palette veramente bellissima che sono stata contenta di comprare questa costa sui 34 euro e gli devo dire che ne vale veramente la pena prenderla secondo me è veramente una palette che mi è piaciuta tantissimo e sono stata soddisfatta c'erano tante cose che avrei voluto provare però col fatto che andavo al Cosmoprof non volevo esagerare nel prendere chissà che cosa poi magari non riuscivo a prendere quello che volevo al Cosmoprof e poi tanto e poi magari prendevo troppo da Mulac tanto poi ricordo che lo store di Mulac è a Bologna fino a metà maggio quindi io conto di volerci andare un'altra volta allo store di Mulac e quindi vedremo al Cosmoprof vediamo se c'ho qualcos'altro per vedere qui dentro no ci sono dei campioncini la vera ma adesso questi poi vi li farò vedere più avanti allora al Cosmoprof se ti registavi registavi registravi sulla sezione Powerful che era un evento che c'era al Cosmoprof dove ti facevano vedere era una cosa bellissima ti facevano vedere la creazione di una cipria in polvere compatta con disegni e esagoni al suo interno era veramente una cosa stupenda vedere la creazione delle nostre amate ciprie e lì se ti registravi andavi lì col coupon non potevi registrare più volte perché è registrato in base all'acquisto del biglietto d'entrata quindi hanno fatto anche una cosa intelligente e ti davano la cipria potevi scegliere la cosa bella è che oltre a darvela in questo sacchettino che ha questi disegni che riprendono l'interno della cipria la cipria è una cipria di viaggio e ha anche il pennello in sé ma il pennello non è un pennello cipria pesa più il pennello che la cipria è un pennello veramente molto molto morbido che si può usare anche per il contouring per il blush direi io anche per l'illuminante lo utilizzerei veramente un pennello passepartout e la cosa bella è questa cipria e pennello è una cosa stupenda io l'ho scelta nella colorazione bianca silver c'era la colorazione nera e la colorazione oro e questa è la cipria in teoria è una cipria e bronzer perché comunque vedete avete questi colori ma potete usarla anche da da ombretti perché comunque sono a sezioni separate veramente molto molto bella un gioiellino praticamente sono stata veramente molto contenta di averla di averla potuta di averla di averla presa scusate il mio italiano che fa un po' cagare ma capitemi non c'è da capire un cavolo edica l'italiano porca la miseria l'italiano allora poi siamo andati al Cosmoprof siamo andati al Cosmoprof verso il mezzogiorno perché comunque capite che stavamo nello store Mulac tanto tempo avevamo preso pure gli oggetti da farci firmare da Cindy ma purtroppo giustamente essendo mezzogiorno dovrà mangiare pure lei che vive di aria e quindi non l'abbiamo beccata purtroppo non l'abbiamo beccata e quindi siamo andati al Cosmoprof il nostro Cosmoprof è iniziato è iniziato bene abbiamo incominciato madonna mia no veramente perdonatemi per l'italiano perché fa veramente cagare adesso andrò random facendovi vedere un po' gli oggettini gli acquisti in cui una scatola di Sephora ve la faccio vedere allora abbiamo girato per un paio di stand vi faccio vedere i regalini di Sara più avanti abbiamo girato per un po' di stand e vi faccio vedere un po' i scolati cosa ci hanno dato allora Elan ci ha omaggiato oltre a uno o due prodotti a questo profumatore per la casa alla Mora in Muschio bellissimo che terrò perché se Dio vuole cambio caso non lo dite a nessuno però perché magari c'è qualcuno che porta spiga quindi lo appoggio per terra perché quello si rompe poi allora qui ho anche un paio di prodotti ecco un'altra iniziativa che facevano carina praticamente appena entravate c'era la zona una zona ovale in cui davano lo champagne in cui Pagni e Sara ne hanno approfittato spuduratamente noi dico che hanno fatto bene sono io quella che vergognosamente che non bevo e se c'era la parte più avanti in cui mettevi fatevate Erika l'italiano Erika parla scusate se facevate una foto con la vostra migliore amica o anche con un cagnolino e mettevate l'hashtag Cosmoprof 2018 vi oltre a stamparvi la foto vi davano questo questo è un crystal sun stick con fpf 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 spf spf 50 di questo colore mmm mio dio è buonissimo direi che mi sarà molto utile perché sono un cadavere e se di vuole vado in ferie quest'anno lo utilizzerò ma veramente forse vado in vacanza ma buh cominciamo a parlare di vacanze vabbè li metterò qui dentro le cose per lo skin care cos'è allora passiamo avanti ci siamo fermati da knip che è una bellissima marca tedesca in cui c'ha ah vi faccio vedere l'altra cosa di elan che è l'olio monoi questo qua che è sero ristrutturante volumizzante antisecco antinodi per i capelli aridi almonoi c'è un profumo immenso veramente molto bello e sono proprio contenta di provare perché io non ho mai provato prodottini del genere e i miei capelli fanno un po' schifo ultimamente quindi sono proprio contenta di averlo ricevuto per poterlo provare allora stiamo dicendo ci siamo fermati da knip che ci ha dato veramente un botto di prodotti da provare veramente tanti 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 prodotti beh illustro uno allora latte corpo ad ognuno di noi hanno dato una linea di una fragranza diversa allora a me hanno dato la linea all'olio d'oliva e citronella sì allora crema per il latte corpo e crema doccia corpo se non erro sì poi questo dovrebbe essere un olio sì un olio dopo la doccia io devo dire la verità non ho mai usato oli dopo la doccia perché li reputo sempre troppo brutti da applicare però è la prima volta che li usa magari poi un altro campioncino di un'altra fragranza che hanno sempre nel loro range delle loro novità che è un altro olio però alla jasmine e argan questo dovrebbe essere una cosa pazzesca deve essere fantastico questo non si sente da qui però deve essere buonissimo veramente molto buono poi comunque li proveremo insieme e di tutto faremo la recensione insieme cercheremo di fare un po' di recensioni tutti insieme io adesso metto così random nei sacchetti ma dovrò comunque dividere non so come farlo a farci rissare nei sacchetti però va bene ci proveremo allora qua ci sono le cartelline stampa ok allora poi volevo provare a trovare la cosa che ci ha dato dottor Ausca dottor Ausca dottor Ausca va bene allora dottor Ausca ci ha dato questa crema per le mani e qualche campioncino che è all'interno di questi fogli da provare ho ancora tanti prodotti di dottor Ausca da provare che erano quelli dell'anno scorso che non ho ancora aperto questa crema per le mani tra l'altro è in edizione limitata e io ultimamente ho le mani molto secche e quindi da provare qui ci sono dei vari campioncini come contorno occhi maschera nutriente maschera rivitalizzante e crema alla rosa per il giorno io adoro le creme alla rosa trovo che siano la cosa più buona che ci sia al mondo veramente buonissima poi passando avanti vi faccio vedere altre rodine allora questo bellissima crema per il viso che è di naobi naobai che è questa linea spagnola tutta naturale che aveva dei prodotti veramente bellissimi veramente fantastici cioè guardate quel pack quanto è bello è di ligno cioè è bellissimo è tutta naturale infatti ha l'ecocert veramente fantastica una linea veramente bellissima e non vedo l'ora di provarla quando finirà la crema la terrope anche per collezione perché comunque ha un suo fascino dato che ha il pack in legno bello poi qui c'è il cosino di fitofarma allora la vera oltre ai soliti campioncini ma ci ha omaggiato questa crema per le mani io di la vera ho provato un campioncino solo di una crema per il viso che devo comprare assolutamente perché praticamente il make up al di sopra ci si stende che è una divinità assoluta per la mia pelle e quindi non vedo l'ora di provare anche questa crema per le mani perché trovo che sia wow veramente wow poi allora fission natura che era nella sezione trattamenti cose del genere perché c'era nella sezione in cui facevano i semi per mani delle sopracciglie cose del genere ci ha dato questa crema credo sia una crema per il viso sì è una crema per il viso con acido lianuronico alla giallica che non ho mai sentito come profumo è chiuso e non si sente quindi ce lo fa tanto quindi non si sente ma poi comunque tutti questi prodotti in cui li proveremo poi tutti insieme questo adesso voglio solo farvi vedere cosa ci hanno omaggiato giusto per farveli vedere allora altri campioncini la vera che sono questi oltre alla crema da giorno che proverò con tanta curiosità perché voglio assolutamente comprarmi oltre a quella che ho già provato che devo comprare voglio comprarmi altri prodottini la vera e un'altra crema per le mani e le cuticole cuticole poi un campioncino di Elan poi 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 allora questi ve li faccio vedere insieme a lui che troverò non lo trovo ma sarà qui da qualche porto oh eccolo allora Gamma ci ha omaggiato dovevate scaricare un coupon sul loro sito ci ha omaggiato di questo un fonda viaggio io ho beccato il pennello e uno spruzzino mentre Sara poi Pamela avevano degli liscianti per capelli che poi ci hanno comunque dato ci ne hanno dati poi qualcuno in più perché gli erano anche avanzati e quindi la fortuna vuole che siamo riusciti a beccarmi anche qualcuno in più praticamente ogni tanto una batta di culo non è che ci vuole no? e quindi codesto codesta cosa fortunosa allora ok allora di La Vera ci hanno omaggiato ancora un un lip balm un lip regalavano anche dei ciupa ciupa che conserveremo non sa mai un calo di zucche poi 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 volevo farvi vedere il siero per i capelli ma ve lo faccio vedere poi appena lo trovo allora Nashi dovevate scaricare un coupon nel suo sito e vi davano un sacchettino con degli omaggi all'interno vediamo se riesco a trovarlo eccolo che è questa pochettina che da ogni anno anche ha legato questo prodotto che sono tutti prodotti per capelli balsami per i capelli oli cose del genere utili e comodi da poter provare perché non ho mai provato cosine di questo tipo e quindi questo le metto di qua poi passando allo stand di Provoc vi omaggiavano un paio di cosine make up cioè voi passavate il tipo quando uscivate vi omaggiava questo ne ho un altro paio all'interno di questo c'è una bellissima mini matita allora all'inizio erano matite nere poi c'erano matite labbra infatti poi la successiva volta che sono è stata manumaggiata una matita labbra che dopo vi faccio vedere perché ho qui Provoc è una marca professionale che è veramente molto interessante perché ha veramente tante dei prodotti fantastici il sito è questo qui che vi lascio qui spero si veda comunque ve lo dico Provoc make up punto com ha veramente tante cose interessanti soprattutto le ciglia finte mi interessavano tantissimo che erano veramente bellissime oltre alle matite e le palette correttori erano veramente una cosa spettacolare voglio provare un paio di queste cose perché comunque ho intenzione anche di comprare un po' di robita comunque poi ripeto proveremo poi tutto insieme allora il make up vorrei vederlo poi tutto insieme perché ce n'è veramente un po' ah eccola no questa è la carta che ho buttato prima poi salviette stoccanti come se non ci fossero domani ci hanno regalato e direi che a me sono molto soddisfatta di tutto ciò perché veramente soddisfatta poi qua c'è ancora un altro prodotto di knip che è un contorno occhi che io non sono così fiera di poterlo provare perché sto cercando un contorno occhi decente da una vita non che quelli che ho non mi piacciono ma a volte sento l'esigenza di avere un qualcosa di più nutriente e speriamo che questo sia all'altezza poi la so ci ho mangiato di un po' di fragranze da provare allora la so per chi non la conosce è un sito UK che ha fragranze per il corpo body mist body care o de parfum acque acque profumate ha un po' di tutto ha delle fragranze veramente fantastiche ha anche dei kit regalo che sono veramente molto carini a noi ci ho mangiato un po' di cose allora tra cui questa fragranza floreale oh mio dio che è buonissima poi la mia preferita che ho sentito tra tutte è la vanilla milkshake che è questa qui guardate quanto è carina oh mio dio oh santo cielo questa è una cosa eccezionale se ci fosse la funzione fai annusare alle tue spettatrici io vi farei sentire perché è una cosa fantastica e questa che piace tanto a Sara che è la pinacolada che è comunque molto buona veramente buona e anche la fresh mask muschio fresco bene buonissimo e poi ci hanno mangiato di un profumo allora io quello dell'anno scorso me lo sono divorato in poco tempo il profumo perché è veramente fantastico per tutti i giorni mi è piaciuto veramente tantissimo ed è questo qui ancora non l'ho aperto ma vi farò sapere poi com'è comunque poi vi farò una cena ecensione totale dei profumi compresi quelli dell'anno scorso perché ho anche i deodoranti dell'anno scorso da terminare e quindi questo è il catalogo per chi volesse acquistare i contatti di So sono questi spero si vedano se fate ferma immagine riuscite a prenderli perché sono veramente fantastici comunque di tutto ripeto troverete foto sul mio instagram che sono dreams with make up e anche recensioni più avanti perché giustamente noi siamo intelligenti vogliamo provare tutto per bene non facciamo le recensioni a muzzo facendo di fretta allora il make up lo ripeto lo metto da parte perché è veramente tantissimo e dato che è la parte più la vogliamo far vedere alla fine allora Erika facciamo una roba prendiamo questo sacchettone enorme allora siamo passati dalla marca Refam allora Refam anche lei è una marca tutta naturale veramente fantastica che ci ha omaggiato di questa spugna cioè io non l'avevo mai visto un prodotto del genere è una spugna esfoliante con il sapone attaccato allora infatti Pamela poi gli ha fatto una domanda molto intelligente ma usandolo è possibile che il sapone si stacchi no perché la spugna mentre facevano la produzione del sapone la spugna è bagnata nel sapone quindi è impossibile che si stacchi la saponetta voi doveste sentire il profumo di di è al vino rosso ma tipo mirtilli ma è una cosa buonissima è un profumo immenso veramente fantastica è per il corpo attenzione per il corpo non è per il viso perché la ragazza ha detto mi raccomando ditelo perché ci sono alcuni youtuber che hanno detto che era per il viso no è per il corpo è fantastica veramente buonissima la metteremo all'opera poi insieme poi 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 Rifan ci ha omaggiato anche di una bellissima saponetta sempre per il corpo veramente tutto da provare poi vado anche un po' a caso poi ancora salviette ci hanno dato le salviette antibatteriche queste qui sono molto molto utili questo cos'è? ok allora poi questa marca qui ci ha regalato polacca dovrebbe essere se non erro sì l'acqua micellare a me è toccata l'acqua micellare fantastica sono molto molto contenta avendo qui poi di videocchere ah ecco il prodotto di gamma che vi dicevo che è questo protezione spray lisciante per appunto lo spruzzate prima di stirare i capelli o lisciarli e vi protegge il capello e io ho notato che per alcuni prodotti tipo quello della prova che io sto provando mi fa asciugare i capelli più velocemente non so se è un'opinione mia o è la verità però allora poi 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 un marchio molto interessante ma questo si tratta di make up voglio farvelo ripeto voglio farvelo vedere poi tutto insieme allora poi trattamenti questo è un trattamento per le mani di questa bellissima marca veramente molto bella poi la manca d'ania ci ha regalato queste maschere qui interessanti per i capelli sì lo shampoo sono regalato un po' di campioni che metteremo in questa scatola magica spero che non mi cada niente perché sono ammammato di una volta perché c'è la mia veglia che mi ha fatto fino nel mule allora Refan ci ha dato anche degli omaggini di sciampi e bagnoschiuma tutti da provare altri campioncini dell'Eclat che sono questi qui oltre a anche campioncini di Human Cici Cream la proveremo vedremo cos'è poi altri campioncini ah bella che bello il segnalibro molto carino allora l'Integra Salus ci ha omaggiato di questo pacchetto con i campioncini in una mini 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 size tutta da provare poi comunque ripeto faccio un biatro il campioncino che se no ci mettiamo 60 anni perché sono veramente troppi Refan ci ha regalato anche i seri per il viso le creme per il viso in campioncino c'erano le aziende che ti regalavano anche i dentifrici giusto perché non ci facciamo mancare niente e poi io voglio parlare anche di una cosa mentre vi faccio vedere qua ancora nasci ottimo voglio parlare di una questione molte dicono accattonaggio no non è accattonaggio il Cosmoprof esiste per due motivi se qualcuno l'ha ancora capito uno le aziende si devono pubblicizzare per poter vendere i loro prodotti e per cercare agenti per commerciare i loro prodotti e soprattutto scuole come parrucchieri estetiste cose del genere per farsi conoscere e far conoscere anche i loro corsi e come lavorano secondo poi i campioncini vengono dati alle blogger youtube e a chi li chiede per conoscere i loro prodotti così magari se mi piace questa crema per il viso io cerco l'azienda e la compro non è accattonaggio che cacchio dite che accattonaggio accattonaggio è girare per gli stand impazzita e richiedere campioncini senza poi fare niente recensione cose del genere no non esiste accattonaggio non è questo per me questo è far conoscere un prodotto e da ex venditrice di un negozio lo so benissimo ma forse il 90% delle persone qui presenti avranno capito il significato del Cosmoprof oltre a servire a estetiste parrucchieri make up artist per trovare e comprare prodotti per lavorare chi al giorno d'oggi ancora non l'ha capito forse mi ha dato molto fastidio la parola accattonaggio detta nel senso Cosmoprof perché io da venditrice mi sentirei offeso dato che ci sono dai facciamo un paragone allora facciamo un paragone mulac o neve smercia i loro prodotti fa uscire 6500 fondotinta in stick e li da tutti ad una persona sola tutte le tonalità ad una persona sola quando io ne avrei bisogno tipo di uno quello cadaverico tutti gli altri li prendono ci sono ragazze che se li vendono quindi evitiamo di parlare di accattonaggio al Cosmoprof quando ci sono persone veramente maleducate che sputano in faccia magari a persone che veramente qui nei youtube io mi tiro fuori perché io sono una appassionata non sputo in faccia che se mi mandassero qualcosa giustamente sarei molto contenta ma ci sono realmente persone che io ho conosciuto qui su youtube che vale veramente la pena di mandare un prodotto c'è una ragazza che adesso io non mi ricordo il nome metterò il link qui sotto perché mi piace veramente tantissimo come fare le recensioni fa vedere i prodotti si trucca fa vedere gli swatch se li compra da lei non ha collaborazioni e io poi mi vado a vedere una ragazza che gli mandano 6500 fontistic che lei utilizzerà uno tutto il resto li regalerà o li venderà direttamente è uno spreco immenso e poi mi vengono a parlare di accattonaggio al cosmo come essere falsi comunque andiamo avanti perché sennò non glincio da qualcuno durante questo video allora poi la naturica ci hanno regalato questo balsamo per i capelli io ve li faccio vedere velocemente ma ripeto che poi comunque nelle storie su instagram sono dress with make up o direttamente sul canale faremo delle prove tutte insieme o sapete se faccio le prove su instagram poi io carico tutti i video li metto poi su youtube allora poi la davis ho omaggiato veramente di un prodotto veramente fantastico perché io non vedo l'ora di provare dove sei ecco è qui dentro praticamente facevano una cosa carinissima è una maschera per i capelli abbinata al suo trattamento per i capelli la cosa bella è che sentivi 5 fragranze e potevi scegliere la fragranza che a te piaceva e ti mescolavano ti amalgamavano il prodotto davanti agli occhi veramente una cosa un'idea veramente bellissima mi è piaciuta veramente tanto come idea ed è questa ci scrivevano il tuo nome sopra guarda carino infatti mi è piaciuto veramente tanto è stata veramente un'idea veramente bellissima e ce lo siamo presi è veramente molto bello sono stata veramente molto soddisfatta qui c'è un altro conditioner di gamma che è lo stesso spray di Shanted ok qua c'è che c'è Grazie a tutti